Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare un detergente per il viso a base di gel d'aloe e argilla bianca ed è un ottimo detergente per il viso che ha proprietà idratanti, antinfiammatorie e aiuta a mantenere sotto controllo il sebo e le impurità. Ma andiamo subito a vedere come realizzare questo detergente per il viso. Allora come prima cosa vado a versare nel mio contenitore due cucchiai di caolino argilla bianca e poi mezza tazza di gel d'aloe vera incomincio a mescolare tutto molto bene per eliminare eventuali grumi e facilitarmi i passaggi successivi. Dopodiché aggiungo anche il sapone di marsiglia e potete utilizzarne uno già pronto come questo oppure quello che abbiamo preparato qualche video fa e di questo vado a versare mezza tazza di sapone liquido di marsiglia appunto. Mescolo ancora un pochettino e poi vado ad aggiungere anche mezza tazza di acqua. Continuo a mescolare ed infine vado ad aggiungere alcune gocce di vitamina E. Mescolo ancora tutto molto molto bene e poi verso tutto in un contenitore con la pompetta. Vi lascio giù nell'info box tutte le proprietà degli ingredienti che ho utilizzato in questo video. Lasciate un mi piace al video se vi è piaciuta la ricetta o se volete altri video di questo tipo lasciatemi iscritto giù nei commenti quello che pensate. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che carico un nuovo video nel canale. Con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!